vediamo ora come tracciare una perpendicolare da un punto a una retta o da un punto a due rette abbiamo la classica scheda in cui a sinistra viene presentato il disegno completo quindi il modello finito e a destra la parte da completare facciamo uno zoom su questa parte quindi inseriamo la prima linea linea a partire dal punto il punto è stato inserito con la funzione il comando punto di autocad quindi dobbiamo individuare il punto con un filtro schiacciamo contro la tastiera destro del mouse e individuiamo nel menu a cursore che viene presentato il filtro nodo quindi con nodo è l'unico modo per individuare il punto nodo e tracciamo la perpendicolare a questo punto ripetiamo il filtro quindi contro il destro mouse e scegliamo un altro filtro perpendicolare quindi perpendicolare alla retta R ESC per finire e terminare l'inserimento diamo invio per ripetere la stessa linea dobbiamo tracciare una perpendicolare passante per P2 in questo caso alla retta R quindi l'unico modo sarà quella di intanto far partire la linea dal nodo punto a questo punto non abbiamo nessun sistema di riferimento per collegare quindi per agganciare la nostra linea e usiamo la funzione orto che si può attivare con questa nella barra di stato e quindi blocchiamo con la funzione orto il cursore in orizzontale e in verticale e con un click quindi con il sinistro del mouse possiamo dare il secondo punto della linea che sarà perfettamente perpendicolare inseriamo un terzo oggetto cioè una terza linea a partire da sempre il nodo punto abbiamo sempre attivato la funzione orto ricordiamo anche che si può attivare con la F8 da tastiera schiaccio e quindi un interruttore attivo spento traccio una linea ed esco in verticale ripeto per linea a questo punto devo intercettare questa intersezione quindi contro il destro mouse intersezione e sempre con l'orto attivato come si può vedere questa passerà sicuramente per il punto P3 contro il destro mouse vado sulla perpendicolare alla retta R ESC per uscire è chiaro che qua avrò una linea in più quindi seleziono destro e sinistro con modalità intercetta la linea e poi seleziono il comando Cancella ho completato quindi l'inserimento di tre perpendicolari